ancora nel bene comune, perciò invito chiunque sia venuto con altre intenzioni a regolarsi di conseguenza. Per correttezza non voglio neanche troppo menzionare il nome del comitato organizzatore perché ciò potrebbe risultare fastidioso per qualcuno, ma vorrei comunque chiedere un applauso agli organizzatori che ci hanno dato questa grande e stupenda possibilità. Questa sera ci troviamo qui per tanti motivi, siamo qui intanto per renderci conto personalmente di quello che già è successo in questo parco e di cui si è sentito dire. In questo parco ci sono tante cose che si potevano o si sarebbero dovute fare, anche prioritarie, come i servizi igienici che mancano, sistemare l'impianto elettrico che non è a norma, installare qualche fontana pubblica, c'è un lavandino là dietro, mettere in sicurezza le piante eccetera eccetera. E invece è stata fatta una cosa che non era scritta da nessuna parte. Prima di iniziarla avevano anche dato lo zuccherino alla popolazione, avete visto? Avevano iniziato con il ripristino dell'asfalto esistente. Peraltro veluto anche bene, ma si sa in questo per tradizione sono dei grandi maestri. E poi con una grande opera di pulizia mai realizzata così radicalmente prima d'ora. Perciò quando vogliono i soldi ci sono. A utilizzare a parcheggi e perché no anche per camper. Ebbene di quel censimento non ne hanno fatto nulla, forse perché è stato più facile occupare indisturbati un'area pubblica, così da non disturbare convenientemente i proprietari dei terreni. Capite? Poi hanno parlato dell'utilizzo di una parte del parco, ma lo sfondamento che hanno fatto per non cozzare con gli interessi del parcheggio che poi andremo insieme a vedere, lo hanno già modificato un paio di volte dopo il mormorio porpopolare che c'è stato. Per cui non hanno niente di stabilito sull'ampiezza dell'area destinata e navigano liberamente a vista senza riferire pubblicamente nulla di preciso. e poi quando fu richiesto con una raccolta di firme che il Comune acquisisse dalla Regione l'area per gestirla in autonomia, probabilmente hanno interpretato la richiesta facendosi dare un'autorizzazione ma solo per realizzare un'area camper. Ma l'aspetto più terrificante di tutta la storia è che come ormai usuale hanno agito di nascosto e arbitrariamente all'insaputa della popolazione, confidando anche nella certezza che questa dorma continuamente e nella mancanza di elementi di controllo. E allora anche per questo questa sera siamo qui, per dare un segnale forte a tutta la città, dicendo basta a questo spudorato malaffare che la attanaglia, di cui si continua a tacere o far finta di niente e che la degrada più di quanto già non lo sia, perché di questo si tratta. E attendiamo anche i risvolti delle ultime notizie di stamattina, non so se avete saputo. Questa sera dunque è un'occasione anche per poter esprimere tutto lo svegno come cittadini stanchi di una politica che li manipola e li considera solo giocattoli elettorali, che devono soltanto accettare decisioni calate dall'alto senza che vengano interpellati per ascoltare le loro reali necessità o che devono asservirsi ai voleri dei politici in cambio di favori per ottenere le cose. Sono i cittadini che sono chiamati a controllare e decidere per la difesa e la salvaguardia del territorio nel nome del bene comune ed è il popolo sovrano che decide e detta le condizioni per la vita civile. Una prestazione che, come ho detto prima, è inizialmente divulgativa per far vedere quello che c'è, che è successo, vuole anche essere preparatoria di un'eventuale successiva protesta nel caso in cui la vicenda dovesse continuare. Sarà richiesto il ritiro della delibera, ma se ciò non basterà dovremo rivederci tutti e anche più di oggi nei pressi delle sedi istituzionali. Volevo anche aggiungere una cosa, avvenne durante il processo a Palermo contro la mafia, quando prima che i giudici si ritirassero nella Camera di Consiglio un certo Michele, là era greco, il cognome era greco, disse ai giudici, signori giudici, io voglio augurarvi una cosa, vi auguro la pace. Sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro quando diciamo queste cose. Grazie. Grazie Daniele, grazie per questo intervento bellissimo. Dobbiamo mettere la faccia da persone oneste e quale siamo? Persone che non temono nessuno, persone che sono qui a difendere questo parco, l'unica bellezza di questo quartiere e dell'intero territorio formiano e del comprensorio. In quattro anni di amministrazione non abbiamo avuto nulla, adesso ci vogliono scippare il parco, è gravissimo, è intollerabile. Certo, no allo scempio di questo parco, una mamma mi diceva preoccupata. Io fino al sabato scorso ho portato il mio bambino a giocare, mi sono seduta, ho chiacchierato con le amiche, è stato bellissimo, non ho avuto un problema perché sapevo che mio figlio era al sicuro. Oggi non sarà più così. Ha detto se ci sono i camper io non andrò più a portare mio figlio perché non mi sentirò più sicura. Con tutto il rispetto ovviamente delle persone e delle cose. Però è così. Noi non abbiamo più il nostro spazio vitale. Non abbiamo più la possibilità di interagire. E se cominciamo con un pezzetto finiremo con l'intero parco nelle griffie di chiunque. E noi diciamo no. Non possiamo dire sì. Non possiamo stare a guardare. Il sindaco ha detto ma che fate? Delle piazzate. Sì, facciamo le piazzate. Sì, protestiamo. Ripetiamo le proteste fino alla settimana prossima, sempre fino a quando non avrà revocato la delibera scellerata. Non è possibile. Noi abbiamo la forza e il coraggio dell'onestà. Abbiamo la forza e il coraggio delle persone che sono anche di subire. La democrazia viene messa sotto i piedi con questo sistema. Secondo me il sindaco a riguardo a riguardo al progetto della delibera, a riguardo alla delibera, credi che politicamente è già stato sconfitto. Mi spiego meglio. Su sei su cinque signore, ci sono anche i voti della maggioranza. Io non parlo di politica, a me non mi interessa, credo signore. Io parlo della civiltà. Va bene? Io ci vivo qua a pochi passi, vedi? Già stato sconfitto. La dovrebbe ritirare perché i stessi suoi hanno detto, una parte di loro hanno detto di no. Dunque a un certo punto che anima mandare avanti questo questo prospetto. va bene, grazie e buonasera. S'anima perché una certa legge aveva eliminato le circoscrizioni, che erano rimasti gli unici agganci tra noi e delle periferie con l'amministrazione centrale. Quindi abbiamo questa meschina idea, molto compattuta stranamente da tutti, di far rinascere un'anima politica non partitica, politica, per ridare voce a tutte le esigenze di noi cittadini di Riggiano, la principale divina. In questi due anni abbiamo fatto tantissime richieste. Qui ci sono solo quelle relative al parco, quindi è tutto protocollato e in amministrazione hanno ricevuto decine e decine di queste lettere. Come voi sapete c'è una certa po' a movimentare anche il resto della popolazione perché noi eravamo ben pochi e abbiamo poca forza. Già dall'8 giugno del 2010, noi siamo nati a maggio, già avevamo fatto la prima richiesta, richiesta, provvedimento urgente per la tutela della salute pubblica mediante la chiusura temporanea al pubblico del parco dei Curtis, in stato di grave e degrado in cui versava. Quindi già dal 2010 ci eravamo cominciati a preguare. Questa è la piantina. Questo primo spazio è stato sottratto al parcheggio. So che molte di queste aree lateralmente facevano parte del parco. Una terza parte adesso ci viene sottratta per il camper e chiaramente a questo punto non potevamo più girarci dall'altra parte, visto che ci siamo presi questa briga di tutelare tutto a Giamola. Pochi giorni dopo, 17 agosto, abbiamo invitato una serie di raccomandate perché nella nostra ingenuità inviavamo raccomandate a tutti, invece poi abbiamo imparato che si poteva andare semplicemente all'ufficio protocollo e versare quello che era richiesto da noi. Qui tutte le foto dell'abbandonazione per accogliere i camper. Quello che viene da dire, per esempio con le associazioni con le quali io ho collaborato, abbiamo sempre avuto grandissime difficoltà a fruire di questo parco. Avevamo le autorizzazioni e arrivavamo con i bambini nelle biciclette e trovavamo il parco chiuso. Per cui dovevamo dirottare le nostre attività sul parcheggio adiacente alla spiaggia. Qui a Gianola, verso il parco Riviera d'Ulisse c'è un campeggio ormai stato di completo abbandono che potrebbe benissimo ospitare camper, tende e tutto quanto. Se solo l'amministrazione volesse rilevare questo spazio, sistemare tutto quello che già c'è di struttura, potrebbe benissimo rispondere alle esigenze turistiche che possono essere quelle di Formia in questo momento. Non c'è moltissima gente che sta venendo in vacanza qui, quindi noi a maggior ragione abbiamo bisogno di spazi dove possiamo fare le cose. Le feste che si è fatto tardi. Volevo fare sicuramente i complimenti al Comitato e a tutte le associazioni che sono state elencate. Accanto voglio sottolineare però un aspetto che mi sembra molto molto importante, che sicuramente è stato detto anche dagli altri, però avevo premura a sottolinearlo. L'aspetto che questo è un parco pubblico e pubblico significa che è di tutti. Le cose pubbliche vanno rispettate. Ultimamente noi siamo così abituati a dover chiedere sempre qualche cosa che chiediamo che anche gli spazi pubblici debbano esserci se c'è qualcosa che si ci fa dentro. Gli spazi pubblici sono pubblici anche se non si ci fa niente dentro. Se io vado a Findicio e mi faccio una passeggiata non devo per forza andarci a vendere qualcosa, a proporre qualcosa, a metterci un ombrellone. Posso farmici semplicemente una passeggiata perché la spiaggia è pubblica, il parco è pubblico. Posso venire a fare un'iniziativa, come posso venire a non farla e stare qui a godermi questo bellissimo spazio. Però questo bellissimo spazio essendo uno spazio pubblico e quindi appartenente alla cosa pubblica, quindi al comune, alla regione, adesso non so chi è l'appartenente della gestione a cui appartiene, però deve essere pulito dal comune. Io non è che passo per via Vitruvio e mi spazio via Vitruvio, pago le tasse e c'è qualcuno che lo fa. La stessa cosa deve essere in tutte le aree pubbliche e quindi questo deve essere sottolineato l'aspetto che la tutela è non solo di un luogo dove si fanno tante iniziative, dove ci sono tante associazioni che vorrebbero fare tante iniziative ma non hanno a volte le autorizzazioni, ma soprattutto deve essere la tutela di uno spazio pubblico, uno spazio di tutti che deve essere mantenuto perché tutti insieme paghiamo le tasse e qualcuno lo deve pulire. Non deve essere sempre la buona azione di qualcuno, perché se ci mettiamo a fare la gara di buone azioni arriverà qualcuno che ne farà centomila volte di più di buone azioni nostre e verremo schiacciati. Pubblico è questo, pubblico significa aver fatto un incontro oggi, ci siamo incontrati qui e abbiamo discusso, domani ci saranno i bambini che giocano. Io per esempio non sono di Giannola, però sono interessata allo stesso perché abito in questo paese, abito in questa nazione e voglio che questa nazione abbia dei luoghi pubblici, di fronte al mare, belli e non con delle costruzioni o con dei gamberi e quant'altro. Ci incoloniamo come in processione, seguendo le icone distribuite sullo strato. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti